Ho il bastantino, ho il primo pezzo, una mano, dai. Ho il primo pezzo, una mano. Quello lì è stimolato. Sì. Oh, sei un'altra cosa. No, no, non so. Non so di problema. Dai una mano. Sì, quando lo vedi. Dai, c'è. Oh, è una tastica. Dai, dai, vai, vai. Vieni, dai. Qui una mano. Prova per non farlo scivolare. Ti la ce l'abbia sotto. Non posso mettere il piede sotto? Perché vedo l'esterno. Dai a me la mano. Grappasi tu, o ti grappi tu. Ma ti vuole un po' di destino, sai? Non è difficile. Non è difficile, dai. Puoi andare lì? Prova su. Puoi andare su io. Mi piangi? A me. Quimati. Fino su qua. Vai. Non ti richiedo? O qua, meno? Vai. Vai. Grazie. Guarda che ce l'abbiamo fatta. Grazie. Grazie. Grazie.